GEMMA GALGANI Uomini e donne Gossip, Giorgio rivuole Gemma, la prova Giorgio Manetti nostalgico vuole tornare con Gemma Galgani. Giorgio Manetti continua ad essere uno dei personaggi più noti e seguiti del trono over di Uomini e donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 in onda da lunedì a venerdì alle 14.45. . Nelle ultime ore il cavaliere un po' nostalgico è tornato indietro nel tempo postando una foto in compagnia di Gemma Galgani sul suo profilo ufficiale Facebook. Nella foto ha aggiunto come di Dascalia, ricordi accompagnata da una faccina sorridente. . I due sono stati fidanzati per molto tempo, regalando molte emozioni ai fan del talk show. . La foto ha infatti conquistato moltissimi like e commenti. In molti continuano a sperare in una loro riconciliazione. . Fino ad ora, però, Manetti non è sembrato intenzionato a tornare insieme alla dama. . . Manetti ancora attratto da Gemma Galgani. Gemma Galgani è tornata moltissime volte a parlare della sua storia d'amore con il cavaliere. Da poco ha ammesso per l'ennesima volta di provare ancora dei forti sentimenti per Giorgio Manetti. . Sarà forse per questo che ad oggi la dama non ha ancora trovato un nuovo compagno, nonostante abbia avuto nuove storie dopo il cavaliere. . Per il momento nessun ritorno di fiamma tra i due, anche se Manetti ha più volte ammesso di essere ancora attratto dal fascino e dall'eleganza della dama. . .